Una campagna nazionale per recuperare l'acciaio e gli imballaggi che spesso finiscono in discarica è stata presentata ad Ancona. E' la marchigianissima Valentina Vezzali la testimonial della robusta campagna di raccolta differenziata per il riciclo degli imballaggi in acciaio presentata ad Ancona. Acciaio Amico, questo è il nome della campagna, coinvolgerà le scuole delle province di Ancona e Macerata per diffondere tra gli studenti la cultura del recupero degli imballaggi in acciaio, lattine, barattoli, scatolette, tappi e bombolette attraverso la raccolta differenziata. Si tratta di un'iniziativa didattica organizzata dal Consorzio Nazionale Acciaio. I ragazzi dovranno imparare a riconoscere e poi a conoscere gli imballaggi che possono e devono essere salvati. Dopo questa prima fase è prevista una vera e propria gara di creatività con la creazione di manufatti artistici per elementari o di una campagna pubblicitaria ideata dagli studenti per le medie. Nel 2007 nelle Marche sono state raccolte 1208 tonnellate di imballaggi in acciaio grazie al coinvolgimento di 95 comuni, appena il 39% del totale. Una maggiore attenzione ed un maggior coinvolgimento potrebbero risultare preziosissimi sia sul piano di risparmio energetico che su quello della cura dell'ambiente.